Riprendiamo la narrazione sistematica dei principali eventi della Seconda Guerra Mondiale. L'altra volta c'eravamo fermati al giugno del 1940, abbiamo parlato della campagna occidentale lanciata dai tedeschi nel maggio del 1940 contro le truppe anglo-francesi e abbiamo visto come sostanzialmente la Germania riesce a replicare il Blitzkrieg con il quale aveva conquistato in tre settimane la Polonia nel settembre 1939 e riesce a replicarlo anche contro le più attrezzate, le più munite divisioni anglo-francesi. Il fattore sorpresa è il fattore decisivo, decisiva sono anche le tattiche messe in campo dai generali tedeschi, di cui ho detto, insomma, l'uso massiccio di aviazione e di truppe corazzate per colpire il nemico nelle retrovie e isolare le truppe in prima linea bloccando qualsiasi tipo di approvvigionamento disseminando, diciamo, il panico, la confusione. Il piano che hanno messo in campo i tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale è una sorta di piano schliffenrovesciato, quindi con un'avanzata nelle Fiandre attraverso l'Olanda e il Belgio che vengono rapidamente occupate dalle truppe tedesche, e poi un colpo decisivo passando per Lussemburgo e la foresta delle Ardenne fino ad arrivare sulla Manica, quindi tagliando fuori così il grosso dell'esercito anglo-francese. Le truppe tedesche fanno il loro ingresso a Parigi il 14 giugno del 1940 mentre una parte della cittadinanza di Parigi abbandona la capitale dirigendosi verso sud. Anche la classe politica francese si disperde, il governo fugge verso sud e il rincarico di primo ministro viene assunto dall'anziano maresciallo Pétain. Maresciallo Pétain è stata una vecchia gloria della Prima Guerra Mondiale. Diventerà poi il leader della destra conservatrice francese, l'unico che viene considerato in grado di trattare con i tedeschi. Infatti il 22 giugno del 1940, quindi una settimana dopo la caduta della capitale, il maresciallo Pétain sigla con i tedeschi un armistizio a Rétain. Hitler aveva preteso che l'armistizio fosse firmato nella stessa località e sullo stesso vagone ferroviario in cui era stato firmato il precedente armistizio, la resa della Germania durante la Prima Guerra Mondiale. In questa maniera simbolicamente la Germania si prendeva la sua rivincita sulla Francia, in un contenzioso che andava avanti ormai da più di un secolo, mettendo così fine alla vergogna, a quel senso di inferiorità che aveva contraddistinto i tedeschi, la società tedesca, la Repubblica tedesca, dalla fine della Prima Guerra Mondiale fino all'avvento del nazismo. La Francia di Pétain sostanzialmente è un governo conservatore, filofascista di fatto, noto anche come Francia di Vichy, perché il governo prende sede in una stazione termale, una città termale di Vichy nel centro-sud della Francia e sostanzialmente mentre la parte settentrionale, nonché tutta la costa occidentale, viene occupata dall'esercito tedesco, anche perché l'esercito tedesco sta continuando le sue operazioni, la guerra ancora non è terminata, l'Inghilterra, come vedremo, oppone resistenza alla Germania, dunque la zona centro-settentrionale con al centro Parigino, che tutta la costa occidentale e la costa atlantica sono occupate dall'esercito e dalla marina e dall'aviazione tedesca. La Germania di Vichy, che diventa una sorta di stato satellite della Germania, invece controlla la parte medidionale e controlla la gran parte delle colonie francesi, l'immenso impero coloniale francese. Petain, in colpa della sconfitta, il regime repubblicano, che era stato attendista, si era poi rivelato assolutamente debole, sistema dei partiti, riottosi a mettersi nelle mani di una guida autorevole, insomma sostanzialmente la colpa della sconfitta, della caduta della Francia, è da rintracciarsi nelle sue scelte liberal-democratiche sostanzialmente. E quindi in questa maniera la Francia di Vichy sposa la linea politica degli altri governi di destra europei, l'Italia fascista e la Germania nazista. Petain impone dunque un regime ispirato quasi ai valori dell'Anzion Kecim, Dio, patria e famiglia, quindi tradizionalismo, conservatorismo. E militarismo, ecco, è un regime sostanzialmente militarizzato. Abbiamo visto la scorsa volta, ecco, c'eravamo fermati con la famosa dichiarazione di guerra di Mussolini, che tutti abbiamo presente, insomma, nell'immaginario collettivo è rimasta. Ecco, l'entrata in guerra dell'Italia viene decisa da Mussolini quando sostanzialmente la Francia ormai era in ginocchio. Gran parte dell'opione pubblica italiana era evidentemente contraria alla guerra. Contraria alla guerra erano anche gli stati maggiori dell'esercito, della marina, dell'aviazione, che avevano denunciato l'impreparazione bellica delle truppe italiane, l'esercito in particolare, mentre la marina era comunque una forza armata di tutto rispetto, seppure non alla stessa altezza del principale nemico con il quale dovremo fare i conti, cioè la flotta inglese, soprattutto dal punto di vista, lo vedremo in seguito, delle comunicazioni. Gli inglesi dispongono del radar, mentre le navi italiane non sono attrezzate di radar, e inoltre gli inglesi dispongono di porta aerei, mentre la flotta italiana, pur essendo particolarmente forte, anche tecnologicamente evoluta per quanto riguarda le grandi navi da battaglia, non dispone però delle porta aerei e di un coordinamento degno di questo nome tra l'aviazione e la marina. L'esercito invece è decisamente impreparato, non dispone di truppe corazzate degne di questo nome, parte la divisione ariete, la quale però ha munita di carri armati assolutamente non all'altezza di quelli tedeschi, di quelli inglesi. In particolare l'esercito, ancora sappiamo, insomma i soldati andranno in guerra con il famoso fucile del 91, quello del 1891, cioè lo stesso fucile che aveva in mano il Fante sul Piave. Quindi l'armamentario italiano è decisamente poco evoluto, non ha subito quelle doverose trasformazioni tecnologiche che pure gli altri stati avevano messo in campo nel corso degli anni 30, anche il parco di artiglieria dell'esercito italiano in gran parte deriva dalla Prima Guerra Mondiale, abbiamo ancora, nelle nostre divisioni, abbiamo ancora dei pezzi che sono stati catturati al nemico austro-ungarico alla fine della Prima Guerra Mondiale, anche dal punto di vista delle munizioni, quindi abbiamo una situazione complicata, mentre gli altri eserciti iniziano a creare degli standard di rifornimento delle munizioni, quindi proiettili che sono adattabili a tutte le bocche di fuoco, invece l'esercito italiano ancora fa fatica a mettere a punto uno standard preciso. L'industria italiana è decisamente inadeguata e, dicevamo, la scorsa volta le materie prime scarseggiano, in particolare quelle materie prime che sono fondamentali per la condotta di una campagna militare di ampio respiro e di lunga durata, in particolare le risorse petrolifere, ma anche il ferro, il carbone, di cui l'Italia fascista non dispone o dispone in minima parte. Tuttavia la decisione Mussolini la prende, la decisione di entrare in guerra, perché i tedeschi sostanzialmente stanno lì per entrare a Parigi, entreranno a Parigi il 14 giugno, mentre la dichiarazione di guerra dell'Italia è il 10 giugno, ma insomma l'esercito francese è sostanzialmente disfatto e lui ritiene, scommette, punta sul fatto che la Gran Bretagna sostanzialmente si ritiri dalla guerra, giunga compromesso con la Germania, con i paesi dell'asse, quindi anche con l'Italia, e l'Italia in questa maniera con pochi giorni di guerra, poche settimane di guerra, contro un nemico già in ginocchio, la Francia potrà guadagnarsi quel posto di prestigio nelle future trattative di pace. Ma i conti sono effettivamente sbagliati, questo lo sappiamo bene, l'Inghilterra deciderà di resistere, il ministro Winston Churchill, che era salito al potere un mese prima, di arrendersi, comunque di arrivare a compromesso, di mettersi d'accordo con i tedeschi, non vuole proprio saperne. La guerra contro la Francia, che dura sostanzialmente una decina di giorni, poco più di dieci giorni, quasi due settimane, tuttavia fa parecchi morti, cioè quelle migliaia di morti di cui Mussolini aveva bisogno per partecipare al tavolo delle trattative, in realtà non basteranno. Come sappiamo, se ne dovranno aggiungere altre decine di migliaia di morti che il nostro esercito disperderà sui vari fronti, dal fronte africano, dal Mediterraneo, dal fronte greco, ai Balcani, fino alle lontane steppe russe. Contemporaneamente, l'Italia comincia la sua guerra, in questo caso guerra parallela, per così dire, parallela rispetto a quella della Germania, in Africa, chiusa rapidamente la campagna contro la Francia, che si risolve in breve, il 24 giugno del 1940, la Francia è costretta comunque a firmare l'armistizio con l'Italia fascista, in Africa invece le truppe italiane devono vedersela con le truppe inglesi, le truppe del Commonwealth, ovvero le truppe che gli inglesi avevano schierate in Egitto. Le basi di partenza delle operazioni italiane sono la Libia, il Nord Africa, la Somalia, l'Etiopia e l'Eritrea, in Africa orientale. Ora, l'Etiopia in particolare, cioè le colonie dell'Africa orientale, sono circondate, erano circondate da colonie inglesi, e quindi da lì sostanzialmente l'iniziativa non può essere presa, anche perché gli eserciti vi presenti non possono essere adeguatamente riforniti dalla Marina italiana, gli inglesi chiudono immediatamente il cane di Suez, quindi immaginate che per rifornire gli eserciti in Etiopia la Marina italiana avrebbe dovuto fare ogni volta il periplo dell'Africa, mettendosi poi a confronto con la Royal Navy. Dunque gli eserciti italiani in Africa orientale, come vedremo, partono da una posizione svantaggiata e sostanzialmente saranno costretti ad arrendersi nella primavera del 1941. Ma invece sul fronte libico, ecco, in Africa settentrionale, gli italiani hanno un numero di divisioni non indifferente, quindi hanno sicuramente una superiorità numerica, approvvigionamenti più facili con la madrepatria, bisogna attraversare il canale di Sicilia per arrivare a Bengasi e a Tripoli, e quindi far arrivare altri rifornimenti, truppe e così via, e nonostante la spina nel fianco rappresentata dalla base aeronavale che gli inglesi hanno a Malta, base aeronavale che le truppe dell'Asse non riusciranno mai a conquistare nel corso della Seconda Guerra Mondiale, nonostante questo, le truppe italiane sono abbastanza munite, superiori dal punto di vista numerico, dicevo, ma assolutamente inferiori sul piano tecnologico, cioè non dispongono di mezzi corazzati degni di questo nome, come ho già rilevato prima, e nonché di truppe motorizzate, insomma un gran numero di soldati che devono spostarsi a piedi, come durante la Prima Guerra Mondiale. Devono spostarsi a piedi su un territorio che però è del tutto ostile, immaginate le distese arroventate dei deserti libici, del deserto egiziano, mentre dall'altra parte gli inglesi dispongono di truppe che possono spostarsi rapidamente su camionette, mezzi corazzati, anche i carri armati inglesi sono decisamente superiori e gondolo anche dell'appoggio della Royal Air Force che anche qui ha mezzi tecnologicamente superiori a quelli italiani, anche se i nostri piloti, va detto, sono particolarmente coraggiosi e brillanti, ma ecco il problema non è tanto il confronto tra il militare, tra il soldato inglese o sudafricano, piuttosto che Anzac australiani e neozelandesi che poi saranno i principali protagonisti dello sforzo bellico inglese in Africa, ecco non è tanto il confronto tra il singolo soldato ma è il confronto tra i mezzi di cui dispone l'uno e l'altro e poi soprattutto la linea di comando, la nostra classe dirigente è decisamente poco attrezzata in termini di mentalità, ecco. In particolare l'Italia fascista perde immediatamente il 28 giugno del 1940 uno dei personaggi più in vista del regime nonché un grandissimo aviatore grandissimo aviatore generale dell'aria e governatore della Libia un personaggio in gamba anche con idee diciamo decisamente moderne Italo Balbo che viene abbattuto mentre fa ritorno con il suo apparecchio sui cieli Tobruk a base italiana nella Libia orientale viene abbattuto dal fuoco amico anche qui si è detto molto sostanzialmente si è detto molto sulla morte di Italo Balbo c'è chi sospetta che Italo Balbo sia stato fatto uccidere deliberatamente comunque con la morte di Italo Balbo Mussolini si è tolto di mezzo ecco un pericoloso rivale politico Balbo probabilmente ritornava da una missione in cui cercava anche qui un abboccamento con gli inglesi un vero e proprio giallo Balbo era contrario alla guerra e nutriva una certa simpatia per gli inglesi gli sembrava del tutto assurda la guerra tra l'altro appunto come dicevamo l'Italia era impreparata sostituire Balbo era nominato il generale Rodolfo Graziani un personaggio anche qui ambiguo anzi un vero e proprio criminali di guerra in questo non c'è nulla di ambiguo si era fatto le ossa nella repressione della resistenza libica fino al 1931 poi successivamente era stato impiegato in Etiopia anche qui si era macchiato di crimini di guerra era stato poi nominato governatore dell'Etiopia di Sabeba le sue mani insomma grondavano di sangue come stratega si rivelò un pessimo stratega sostanzialmente quindi indeciso all'inizio tenta un'avanzata ma questa avanzata come dicevo prima anche a causa della scarsità dei mezzi di cui dispone l'esercito italiana si rivela del tutto poco significativa in influente viene immediatamente rintuzzata dagli inglesi torniamo al fronte nord insomma la Francia abbiamo visto che è uscita la guerra l'Inghilterra invece si predispone alla resistenza il 10 maggio del 1940 Winston Churchill era diventato premier capo del partito conservatore era diventato premier al posto di Neville Chamberlain e a questo punto dopo la caduta della Francia la Gran Bretagna rimangono due alternative o trattare con Hitler ma da una posizione di debolezza riconoscendogli le conquiste sia sul fronte orientale che sul fronte occidentale oppure continuare il conflitto contando però esclusivamente sulla propria potenza navale e sui rifornimenti che le venivano dal Commonwealth al suo vasto impero vasto ma decadente impero mondiale quindi l'Inghilterra può decidere di continuare la guerra ma deve contare soltanto sulle proprie risorse questa seconda alternativa è appunto quella voluta estremamente difesa da Winston Churchill e c'è questo famoso discorso quello del 13 maggio che è il discorso dell'insediamento di Winston Churchill che insomma getta immediatamente la maschera e dichiara abbiamo davanti a noi una prova del genere più doloroso abbiamo davanti a noi molti molti lunghi mesi di lotta e di sofferenza chiedi qual è la nostra politica di Roa e la guerra il mare la terra e l'aria con tutta la nostra forza e con tutta la forza che Dio può darci fare la guerra contro una mostruosa tirannia mai superata nello scuro deplorevole catalogo del crimine umano questa è la nostra politica chiedi qual è il nostro obiettivo posso rispondere in una sola parola è la vittoria la vittoria a tutti i costi la vittoria nonostante tutto il terrore la vittoria per quanto lunga e difficile possa essere la strada e poi continua chiude anzi il discorso con l'esaltazione finale la famosa esaltazione finale in cui dichiara che l'Inghilterra resisterà a tutti i costi contro la Germania contro il nazismo e andremo avanti fino alla fine combatteremo in Francia combatteremo sui mari e gli oceani combatteremo con fiducia crescente con forza crescente nell'aria difenderemo la nostra isola a qualunque costo combatteremo sulle spiagge combatteremo nei luoghi di sbarco combatteremo nei campi e nelle strade combatteremo sulle colline non ci arrenderemo mai e se cosa che non credo neanche per un momento quest'isola o gran parte di essa fosse soggiogata e affamata allora il nostro impero d'oltremare armato e guidato dalla flotta britannica continuerà la lotta fino a quando se Dio vorrà il nuovo mondo con tutta la sua forza e potenza si muoverà al salvataggio e alla liberazione del vecchio e con la chiusura del suo discorso evoca evidentemente l'intervento l'aiuto degli Stati Uniti cosa che poi effettivamente avverrà la risposta tedesca di fronte alla decisione inglese di resistere a tutti i costi e continuare la guerra Hitler stesso avrebbe preferito in qualche maniera scendere a patti con gli inglesi ma evidentemente alle mani legate viene progettata quindi dalla Wehrmacht la famosa operazione Leone Marino lo sbarco in Inghilterra operazione che verrà preparata ma non verrà mai realizzata come a suo tempo non era stata realizzata l'operazione di sbarco in Inghilterra pianificata da Napoleone all'inizio dell'Ottocento questo perché perché prima di dare avvio allo sbarco delle truppe di terra sulle isole britanniche era necessario che l'aviazione militare prendesse il controllo dei cieli dell'Europa settentrionale e in particolare dei cieli sopra la manica per proteggere la flotta di invasione tedesca contro l'intervento della superiore comunque marina inglese per tre mesi dal luglio fino al settembre ottobre del 1940 l'aviazione tedesca bersagliò la Gran Bretagna con attacchi pesantissimi molti a danneggiare la sua potenza industriale e a indebolire il morale della popolazione quindi anche qui l'arma aerea viene utilizzata strategicamente non solo e non tanto per colpire le basi industriali la potenza industriale inglese ma soprattutto per diciamo abbattere il morale del popolo inglese e questo si rivelò un errore fatale un errore fatale perché i tedeschi non riuscirono sostanzialmente non riuscirono ad intaccare la potenza industriale inglese tantomeno riuscirono a colpire a danneggiare seriamente i porti inglesi collocati sul nella parte occidentale delle isole britanniche Liverpool per esempio che erano i posti attraverso i quali l'Inghilterra riceveva e riceverà anche nei mesi negli anni successivi rifornimenti d'oltre oceano e dalle sue colonie non furono colpiti e non furono danneggiati in maniera significativa nemmeno i campi d'aviazione ma questo accanirsi contro la popolazione civile provocò invece che un abbattimento una demoralizzazione provocò una ferma reazione del popolo inglese che si unì ancora più compattamente sotto la direttiva sotto il comando di Winston Churchill in particolare ecco celebre fu il bombardamento la distruzione qui simbolica della città Coventry una città che si trova diciamo nei pressi di Londra nella parte centrale dell'isola e Coventry viene quasi completamente raso al suolo dai bombardieri tedeschi e a questa operazione volle partecipare anche simbolicamente Mussolini con qualche aereo italiano da bombardamento italiano e all'epoca coniò il neologismo trionfante di come intruizzare ovvero distruggere radere al suolo una città tre mesi di guerra a Canita una partita che si gioca veramente sul filo del rasoio con enormi perdite sia da una parte che dall'altra ma che alla fine riuscì ad essere vinta dall'aviazione inglese la RAF che prevale un po' per la maestria dei suoi piloti ma fondamentalmente perché le basi aeree inglesi hanno diciamo l'Inghilterra si difende quindi il tragitto che devono compiere gli aeroplani tedeschi attraversando la manica è un tragitto più lungo quando arrivano poi sui cieli inglesi spesso e volentieri se la devono vedere sia con i caccia della RAF sia con la contraerea inglese quindi sono colpiti sia dal basso che dalle incursioni dei caccia dei speedfire della RAF i quali possono velocemente ritornare a terra rifornirsi e rimettersi in volo i piloti sono pochi sostanzialmente distrutti dalla fatica compiono anche 3, 4, 5 missioni al giorno i tedeschi evidentemente non hanno non possono sostenere questi ritmi insomma alla fine con l'arrivo dell'autunno gli attacchi tedeschi iniziano a esaurirsi iniziano a venire meno e gli inglesi a quel punto possono dichiarare di aver vinto la battaglia in Inghilterra Churchill dirà no frunserà le famose parole never was much owed by so many to so few mai in nessuna epoca della storia inglese così tanto fu dovuto da così tanti a così pochi così pochi sono i piloti della RAF così tanti alla popolazione inglese tra l'altro nella RAF non militano soltanto piloti britannici ma anche volontari che provengono più il mondo libero dagli Stati Uniti dal Sud Africa e anche alcuni volontari polacchi che erano riusciti a mettersi in salvo dopo la conquista della Polonia ad opera delle armate del Reich ed erano avevano trovato rifugio in Inghilterra e quindi collaborano attivamente alla resistenza dell'isola contemporaneamente l'Italia per non essere da meno della Germania inizia quella che viene definita guerra guerra parallela in effetti una guerra parallela andava avanti già come ho detto prima in Africa ma sostanzialmente la l'Italia fascista decide di attaccare in maniera così univoca anche inutile la Grecia siamo a fine dell'ottobre del 1940 la Germania senza avvertire l'alleato italiano aveva appena occupato alcuni pozzi petroliferi in Romania dunque aveva esteso la sua sfera di influenza ai Balcani e dunque Mussolini anche qui vuole mettere Hitler con le spalle al muro dunque di fronte al fatto compiuto e attacca la Grecia ora la Grecia il caso Sbelli sostanzialmente non c'è il regime greco tra l'altro è un regime filofascista dunque la guerra ha poco senso dal punto di vista ideologico non è minimamente sentita dagli italiani eppure fanno il loro dovere i soldati italiani fanno il loro dovere evidentemente ma anche qui ancora una volta l'Italia si dimostra estremamente impreparata ora l'impreparazione contro la Gran Bretagna pure ci poteva stare contro la Grecia fa un po' più specie ma anche qui dobbiamo considerare che i greci si stanno difendendo a casa loro da un'aggressione assolutamente ingiustificata quindi nonostante l'apparente almeno sulla carta superiorità dell'esercito italiano gli italiani sono costretti a indietreggiare e di fatto a ritirarsi in Albania quindi a rientrare le loro basi in Albania anzi perdono anche terreno rispetto all'avanzata dei greci questo in successo determinò una grossa crisi di sfiducia nell'opinione pubblica italiana in mezzo alla quale iniziarono a circolare anche per effetto delle lettere che intanto i soldati italiani spedivano a casa le voci degli sbandamenti delle truppe la carenza di equipaggiamento disorganizzazione tutte queste cose iniziano a trapelare la censura non ce la fa a controllare tutto e quindi l'opinione pubblica italiana inizia decisamente a risentirne l'altro fronte su cui l'Italia fascista si trova a mal partito abbiamo già visto e quello africano diciamo che tra l'autunno e l'inverno e la primavera nel 1900 tra l'autunno e l'inverno del 40 e la primavera del 41 sostanzialmente il fronte rimane piuttosto stabile con avanzate diciamo di poche decine di chilometri all'inizio delle truppe italiane e poi avanzate successive degli inglesi nel 41 nell'aprile del 41 la situazione invece si fa decisamente grave perché Graziani è costretto a ritirarsi ulteriormente è costretto a lasciare nelle mani degli inglesi la cirenaica cioè la parte orientale della nostra colonia e in particolare il porto strategico di Tobruk porto strategico che era fondamentale per rifornire le truppe italiane in prima linea e che poi nelle mani degli inglesi diventerà altrettanto fondamentale per rifornire le avanzanti colonne corazzate inglesi e a questo punto sostanzialmente Mussolini è costretto a chiedere l'aiuto della Germania non può più rifiutare l'aiuto della Germania e Hitler decide di inviare il famoso il celebre Africa Corps al comando del generale Erwin Rommel uno dei più famosi anche dei più preparati generali tedeschi che nell'aprile del 41 sostanzialmente sbarca in Tripolitania a Tripoli e con una serie di campagne militari nonostante le truppe tedesche siano all'inizio piuttosto esigue ma essendo brillantemente condotte essendo dotate poi di mezzi tecnologici degni di questo nome riescono a contrattaccare vittoriosamente gli inglesi e quindi a far ritrocedere gli inglesi dalla Cirenaica soltanto il porto Tobruk rimarrà nelle mani degli inglesi invece come vi avevo anticipato l'Etiopia cade nell'aprile del 41 cade nelle mani degli inglesi il duca di Savoia Medeo di Savoia che è il comandante delle truppe italiane in Africa orientale si arrende viene preso prigioniero dagli inglesi e morirà in campo di prigionia ma morirà di malattia nel campo di prigionia in cui è stato rinchiuso i nostri soldati comunque si batterono fino alla fine con valore e gli inglesi riconobbero loro l'onore delle armi ma insomma il valore del soldato italiano non basta minimamente a contrastare la superiorità dei mezzi e delle risorse degli inglesi e andiamo avanti torniamo in Europa torniamo al fronte al fronte orientale al fronte balcanico in particolare abbiamo lasciato gli italiani impantanati nel confine greco e albanese sostanzialmente e a questo punto nella primavera del 41 i tedeschi stanno già progettando l'invasione dell'unione sovietica che avrà luogo poi il 22 giugno del 1941 la celebre operazione barbarossa e hanno bisogno di assicurarsi il fronte balcanico per evitare un eventuale contrattacco da parte inglese nei balcani questo perché perché l'improvvido l'improvvida campagna italiana in Grecia aveva provocato sostanzialmente l'ingresso delle truppe inglesi sul fronte greco cioè la Grecia che potenzialmente era alleata dell'asse comunque aveva un regime diciamo fascista è costretta a chiedere l'aiuto no non può non può non accettare non può rifiutare l'aiuto delle truppe britanniche e i tedeschi temono che con gli italiani impantanati tra l'Albania e Grecia e i balcani espossi ad un eventuale colpo di mano degli inglesi la loro campagna contro la Russia campagna primaverile estive contro la Russia potrà essere messa in crisi quindi devono rapidamente liquidare la pratica balcanica e decidono le gruppe tedesche decidono di invadere Hitler decide di invadere la Jugoslavia che viene messa a tacere diciamo viene conquistata nel giro di poche settimane e poi di di dare manforte agli italiani in Grecia quindi anche la Grecia con una rapida campagna militare viene assorgettata e conquistata dalle forze dell'asse arriviamo quindi al diciamo alla data fatidica alla svolta no al giugno del 41 ecco fino a questo momento la guerra mondiale ha riguardato principalmente il fronte europeo no l'Europa è stata ancora una guerra europea salvo ecco le battaglie che si sono già combattute ma insomma di seconda di seconda linea di scarsa rilevanza rispetto alla situazione europea battaglie che si sono combattute in Africa invece con l'operazione barbarossa viene tirato dentro il conflitto la Russia sovietica poi come vedremo il 41 è l'anno della svolta della mondializzazione effettivamente della guerra perché 7 dicembre dello stesso anno entreranno in guerra gli Stati Uniti a causa dell'attacco a sorpresa operato dall'altro paese dell'Asse il Giappone alla flotta alla rada per Arbor il 7 dicembre del 1941 quindi nel 1941 tra il giugno e il dicembre del 41 gli altri due grandi protagonisti della seconda guerra mondiale che poi saranno anche i protagonisti della successiva guerra fredda l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti entreranno in guerra entreranno in guerra per volontà anche qui dei paesi dell'Asse che come vi ho detto nella lezione di introduzione sono quasi obbligati ad una campagna preventiva quindi ad un attacco rapido per mettere le mani sulle risorse sulle materie prime di cui hanno bisogno per poter sperare di vincere la guerra l'operazione Barbarossa prende avvio su un fronte lungo migliaia di chilometri sostanzialmente l'esercito tedesco che conta centinaia di divisioni è diviso in tre tronconi ecco ognuno dei quali ha un suo specifico obiettivo abbiamo l'esercito del nord questo gruppo di armate del nord forte di 31 divisioni che parte dalla Prussia orientale e ha come punto d'arrivo come obiettivo finale la città di Leningrado oggi San Pietroburgo passando attraverso le repubbliche baltiche che precedentemente erano state conquistate dall'unione sovietica poi c'è il gruppo armate centro il gruppo armate Mitte che è forte di 57 divisioni quindi è il grosso dell'esercito tedesco che invece aveva come obiettivo finale la città di Mosca quindi con lungo la direttiva Smolenk Mosca si sarebbe decisa la fine dell'unione sovietica almeno così speravano gli strateghi di Hitler poi c'è il gruppo armate sud forte di 48 divisioni che invece ha come obiettivo la conquista dell'Ucraina e l'assoggettamento delle risorse agricole l'Ucraina è il granaio della Russia e sarebbe diventato a quel punto il granaio del Terzo Reich quindi il primo obiettivo è Kiev la capitale dell'Ucraina e poi vedremo successivamente l'anno dopo sarà Stalingrado la città che portava il nome di Stalin alla confluenza tra il Don e la Volga e quindi la porta del Caucaso quindi ripeto tre direttive una nord una centrale una sud anche qui si cerca di mettere in atto Blitzkrieg che però sostanzialmente entra in affanno perché le distanze sono enormi quindi all'inizio le truppe tedesche mietono successi anche se col passare del tempo i russi che pure non se l'aspettavano si aspettavano sì una guerra ma ancora immaginavano che la guerra sarebbe scoppiata da lì a qualche tempo erano l'esercito russo l'armata rossa si stava riarmando considerate pure le grandi purghe che avevano messo a terra l'alto comando russo quindi anche la classe ufficiale era scarsamente preparata tuttavia man mano che i tedeschi avanzano la resistenza aumenta i russi non ne vogliono sapere di mollare anche perché hanno a disposizione un territorio vastissimo quindi possono ritirarsi e organizzarsi e spostare sempre più indietro il fronte e quindi i tedeschi iniziano a subire perdite importanti anche se non sono confrontabili con quelle russe all'inizio della guerra nei primi mesi di guerra i russi perdono decine e decine di divisioni quindi parliamo di centinaia di migliaia di prigionieri di morti di feriti i prigionieri vengono avviati verso le retrovie tedesche molti di loro finiranno nei campi di lavoro nelle industrie tedesche nonostante questo i tedeschi sono costretti ad arrestare le loro divisioni a pochi chilometri da Mosca le avanguardie tedesche erano arrivate a Mosca nell'ottobre del 1941 quando le condizioni atmosferiche iniziano a diventare proibitive il vantaggio tedesco all'inizio consiste nell'uso combinato dell'aviazione delle truppe corazzate anche in una certa più che di superiorità tecnologica diciamo di una maggiore maestria nell'uso delle truppe corazzate poi i corazzati russi sono in grado di reggere il confronto con quelli tedeschi in particolare il famoso carro T-34 che diede parecchio filo a torcere alle panze divisionen tedesche quando però ecco l'aviazione tedesca che era all'inizio superiore non può più levarsi in volo per assistere le avanzanti colonne corazzate tedesche per le condizioni metrologiche e le strade iniziano a riempirsi di fango quindi i camion dei rifornimenti iniziano a impantanarsi quindi tutta la macchina bellica tedesca inizia a rallentarsi e poi con l'arrivo del generale inverno cosa che in inizio tedeschi volevano assolutamente scongiurare l'avanzata su Mosca si ferma quindi a dicembre i sovietici riescono addirittura a contrattaccare il gruppo armate centro e allontanare la minaccia tedesca da Mosca nell'inverno del 41-42 la situazione dei tedeschi peggiora ulteriormente anche perché non sono equipaggiati con divise invernali molti di loro muoiono di freddo Hitler dà l'ordine perentorio di resistere sul posto quindi vieta qualsiasi ritirata e i tedeschi l'esercito tedesco inizia a subire perdite importanti anche se a questo punto ancora è in vantaggio controlla i paesi baltici e controlla anche l'Ucraina che è stata strappata all'Unione Sovietica e nel frattempo torniamo adesso spostiamoci un attimo sul fronte dell'Atlantico il fronte dell'Atlantico è importante perché per mettere KO la resistenza inglese visto il fallimento della battaglia d'Inghilterra quindi dell'aggressione aerea da parte della Luftwaffe la marina tedesca Hitler si gioca la carta degli U-Bot che già si erano rivelati estremamente efficaci e pericolosi durante la prima guerra mondiale gli U-Bot questi branchi di lupi gruppi di sommercibili che attaccano le navi di rifornimento inglesi lungo inglesi e degli alleati lungo le principali rotte atlantiche hanno ecco come scopo quello di mettere in ginocchio l'Inghilterra di strangolarla di farla morire di fame ecco e quindi l'Atlantico diventa un fronte decisamente importante ed è proprio sull'Atlantico che inizia sulla questione dell'Atlantico quindi del controllo dell'Atlantico e della libertà di circolazione e navigazione nei mari che inizia a crearsi questa alleanza anche qui indotta sperata voluta da Churchill lo abbiamo visto precedentemente tra il nuovo e il vecchio mondo per così dire a metà agosto del 41 infatti Roosevelt e Churchill si incontrano a largo dell'isola di Terranova in Canada e firmano la celebre la famosa carta atlantica a cui poi il patto del nord atlantico la Nato prende nome in qualche modo ricorda questa prima alleanza tra Gran Bretagna e Stati Uniti si trattava di un documento in otto punti che condannava i regimi fascisti totalitarismi di destra indicava i principi in base ai quali edificare un nuovo ordine democratico alla fine della guerra i principi erano gli stessi principi che aveva enunciato Wilson alla fine della prima guerra mondiale rispetto alla sovranità popolare del diritto di autodeterminazione dei popoli la libertà di commercio la libertà di navigazione sui mari la cooperazione internazionale nonché evitare l'uso della forza dei rapporti internazionali anche se questo evidentemente non era più possibile dato che la guerra era ormai era scoppiata già da due anni e questo prelude a quella che poi sarà la successiva alleanza è importante notare che già nel marzo del 1941 l'11 marzo del 1941 il presidente Roosevelt anche se non era ancora riuscito per così dire a convincere l'Unione Pubblica Americana isolazionista come lo era stata la prima guerra mondiale ad intervenire a fianco della Gran Bretagna tuttavia ha fatto votare al congresso la legge on earth land list la legge affitti e pressi per cui sostanzialmente gli Stati Uniti potevano rifornire avevano avuto l'autorizzazione dal congresso a rifornire i paesi alleati quindi l'Unione Sovietica e la Gran Bretagna in prima fila senza violare formalmente la neutralità degli altri paesi quindi rimanendo neutrali ma tuttavia le merci iniziano a confluire quindi gli aiuti fondamentali degli Stati Uniti iniziano ad arrivare in Inghilterra e poi successivamente anche in Russia dopo l'inizio della guerra in Russia dopo l'aggressione tedesca terminiamo con l'altro evento clou del 41 ovvero l'attacco a Pelarbur mentre le truppe tedesche si sono impantanate le porte di Mosca in novembre del 1941 il 7 dicembre del 41 il Giappone attacca la flotta americana ancorata in gran parte nella baia di Pelarbur senza una dichiarazione di guerra formale la dichiarazione di guerra arriverà qualche ora dopo quindi un attacco a sorpresa che poi verrà denunciato anche se il governo degli Stati Uniti oggi lo sappiamo aveva comunque nozione dell'imminente attacco giapponese e in maniera per così dire improvvita ma in realtà era nell'aria Germania e Italia dichiarano guerra agli USA quindi il patto entra in funzione il cosiddetto patto tripartito Asse-Roma Berlino-Tokio e i tre paesi dell'asse si trovano in guerra contro gli Stati Uniti e gli Stati Uniti a questo punto entrano in guerra massicciamente all'inizio sono in difficoltà devono riammarsi ma poi vedremo come aveva detto l'ammiraglio Yamamoto che aveva detto ai suoi interlocutori politici non vi rendete conto che abbiamo risvegliato un gigante dormiente cioè o gli Stati Uniti li abbattiamo con un colpo decisivo all'inizio per poi resistere o altrimenti se non prendiamo un'iniziativa subito il gigante statunitense si metterà in moto e alla fine avrà partita vinta e così in effetti avverrà comunque ecco vista anche l'istruzione di buona parte della flotta americana i giapponesi all'inizio passano di vittoria in vittoria conquistano in pochi mesi le Filippine la Malesia la Birmania l'Indonesia quindi territori che erano colonie diciamo americane le Filippine è un territorio controllato dagli americani Indonesia olandese Malesia Birmania inglese e minacciano anche la vicino il cuore dell'impero inglese in India e nonché l'Australia e la minaccia portata su India e Australia mette in sedia crisi il sistema imperiale britannico e per oggi ci fermiamo qui quindi siamo arrivati alla fine del 41 alla prossima di il Grazie.